Presidente, infine anche Berlusconi ha detto non candiderò persone indagate nelle mie liste, poi ci sono state delle indiscrezioni e poi proprio di queste ore la notizia sul processo Rubi che torna, insomma quindi ancora un tema centrale. Però io mi metto nei suoi panni, lui deve pure completare le liste, poi dove le trovo le persone.